Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AciNews. In questo video vi porto le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 21 maggio. In villa Yaman Zuleya inizia a parlare con Gulten riguardo a quello che ha scoperto, ma ad un tratto arriva di nuovo la polizia e chiede con Demir e gli altri della villa che tutti devono presentarsi ad esponare per la morte di Erkument. E Demir dice che li porterà lui stesso dalla procuratrice. Zuleya è molto preoccupata e chiede cosa sta succedendo. Demir gli dice che ci penserà lui e di andare in casa, ma Zuleya ribellandosi gli urla che vuole sapere cosa sta succedendo, visto che tutti sono chiamati a testimoniare. Ma Demir la manda in casa dicendole che ne parleranno dopo. Demir così decide di andare da solo e dire la verità che è stato Yilmaz, così li lascerà stare. Ma subito arriva Yilmaz minacciandolo e dicendogli che è stato lui ad uccidere Cenkamir, e lo scoprirà e va via. Prima di continuare però, se ti va, lascia un bel mi piace e iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ripartiamo. Demir nel frattempo va dalla procuratrice e mentre l'aspetta arriva Atip, che subito gli dice che tutta Cucurova sta parlando di loro, in particolare che Demir abbia ucciso Erkument perché abbia orientato sua moglie Zuleya. Subito Demir attacca Atip ed esce dalla stanza andando via in macchina più infuriato che mai. Demir subito va in paese dal suo barbiere e vuole sapere cosa si dica sul loro conto. E il signore gli dice che si dice che Erkument ha maltrattato Zuleya. Demir gli dice che suo cugino era una brutta persona, ma questa è una bugia perché non l'ha mai toccata neanche con un dito. E Demir è molto in pensiero. Demir quando torna a casa racconta tutto alla madre ed Unkar non ci può credere e gli chiede se poi ha detto la verità a Julide. Ma Demir gli dice che alla fine non ha detto niente, anche perché con così tante parole che girano chissà se ora gli crederà. Unkar è preoccupatissima e Demir dice che ora deve far tornare in bella luce il nome di Zuleya. Intanto Ilmaz va da Fecchieli per parlare e Beyce cerca di capire cosa si dicono spiandoli. Ilmaz rivela a suo padre che Eyup è stato assassinato in prigione proprio quando lo aveva chiamato per riveragli la verità su Ciencavier e continua ad essere convinto che dietro a tutto questo ci sia Demir. Ma Fecchieli dice che questo problema ora per loro è poco importante perché in città stanno girando voci più importanti, cioè che Ergumet abbia violentato Zuleya e per questo Demir l'avrebbe ucciso. Ilmaz non può credere a quelle parole. Nel frattempo Zuleya si trova con Demir e Unkar e viene a sapere delle voci che stanno girando e chiede come sia possibile. Poi chiede se davvero Ilmaz ha ucciso Ergumet e come è successo. Unkar le risponde che è tutto vero e lei quel giorno aveva dei dubbi su Ergumet e poi lui ha scomparso. Poco dopo era preoccupata e andò a cercarlo ma poco tempo dopo sentì Vulten urlare e quando era arrivata lì era già tutto finito. Ma c'era anche Ilmaz e si è battuto contro Ergumet ma lui ha tirato fuori una pistola e ha colpito Ilmaz. Quindi poi il ragazzo con una pietra lo colpì alla testa e morì. Poi Unkar continua dicendo che questo caso sarebbe chiuso da anni se non fosse che ora la procuratrice vuole andare a fondo ed è sulla bocca di tutti. Zuleya chiede come risolvono adesso questa cosa perché se rifiutano viene fuori il nome di Vulten ma se non lo fanno lei rimane con questo scandalo sulla bocca di tutti. Maddenir dice che cancelleranno tutto però Zuleya molto preoccupata e piangendo lascia la stanza. Unkar dice che risolveranno questa cosa e andrà a parlare lei personalmente con Ilmaz e Fecheni però subito Demir si altera dicendo che lei non si siederà mai al tavolo con loro. Ma Unkar si nervosisce e urlando inizia a dire con suo figlio che hanno bisogno di risolvere questa cosa tutti insieme perché sente che si uniscono per trovare una soluzione. Soprattutto per cancellare il nome di Zuleya e riuscire a far tacere le persone. Demir sembra dare a ragione alla madre e Unkar subito chiama Fecheli dicendogli che la cosa più giusta sia quella di incontrarsi e Fecheli è d'accordo con lei. In un secondo momento Unkar e Demir decino di parlare con Sanì e Gaffur e Gunther. Subito Gunther è preoccupatissima perché ha paura che ora venga fuori il suo nome ma Unkar dice che deve stare tranquilla che non succederà. Unkar continua dicendo che ci sono voci in paese che Ergument abbia violentato Zuleya e che Demir lo abbia ucciso. Subito Wolten chiede ora cosa succederà perché a causa sua è finito al centro il nome di Zuleya ma Demir le dice di stare tranquilla che risolveranno tutto ed Unkar dice che hanno bisogno di loro perché la procura vuole interrogarli e loro dovranno dire che Ergument quella sera è scomparso e lei e Demir erano preoccupati per lui e sono andati dalla polizia. A parte quello non devono dire altro ed insieme usciranno da quel pasticcio. Poi Demir e Unkar vanno da Ilmaz e Fecheli. Wolten è preoccupata e vedendo Cetin lo chiama per parlare. Beyice arriva da Mujgan e le dice dove stanno andando Demir e Unkar. Mujgan non capisce e Beyice dice che non sa il motivo ma ha sentito che si devono vedere con Ilmaz e Fecheli. Mujgan vorrebbe andare subito con loro ma Beyice dice che non possono e devono attendere. I quattro si vedono e Unkar dice con i due ragazzi che si devono prima di tutto calmare perché quella è una prova per tutti e devono risolverla. Ma Ilmaz subito dice che lui è lì seduto solo per il nome di Zuleia perché se no non starebbe mai vicino all'assassino di Ciencavier. Ma Fecheli dice con Ilmaz che sa che è arrabbiato ma ora la causa del problema è un'altra per questo devono stare insieme per risolverlo. Demir subito dice che lui non ha ucciso Ciencavier ma Ilmaz gli dice la storia di Eup e Demir continua dicendo che lui non ha fatto niente e come può pensare che lui abbia sparato ad un suo amico d'infanzia ma Ilmaz gli dice che da Demir ci si può aspettare di tutto. Demir però continua dicendo che giura sui suoi figli che non ha ucciso nessuno perché lo considerava suo fratello. Ilmaz sembra credergli. Nel frattempo Gult ne racconta tutto a Cetin e più angene gli dice che troveranno una soluzione e Cetin prendendole il viso le dice che anche se tutta Cucurova dovrebbe scoprirlo per lui le resterà il suo tutto e non cambierà niente. Gult lo abbraccia. In un secondo momento vedremo Beice che vada a Sermina a parlare dicendole che gli Aman si sono incontrati con Ilmaz e Fecheli e sono tante curiose di scoprire per quale motivo. Beice le dice che considerato che lei ha salvato il figlio di Guleia potrebbe andare dalla ragazza a chiederle cosa sta succedendo e poi andare da lei a riferirglielo. Sermina allora gli dirà che proverà ad andare da loro e cercherà di scoprirlo ma lei deve cercare di mandare via la procuratrice. E insieme fanno questo accordo. Le anticipazioni terminano qui. Cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti e se il video ti è piaciuto lasciami un like ed iscriviti al canale per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!